Il 31 ottobre 2020, Halloween, non si poteva uscire, mi stavo guardando un film con un mio amico e a un certo punto improvvisamente, io non avevo fatto niente, addirittura mi sembra di non aver nemmeno fatto video quel giorno lì, proprio niente da Google, mi arriva un messaggio, un SMS da Google, dal telefono, con un codice di verifica che io non avevo richiesto. Sapete che Google dà questa possibilità di proteggere l'account con un codice di verifica, insomma dà questa possibilità, con un SMS diretto sul tuo telefono che se arriva a te e tu non dici a nessun altro, hai solo tu. E a me arriva questo codice che non avevo richiesto, quindi decido di indagare, neanche il tempo di pensare che 20 secondi dopo, io non avevo condiviso il codice con nessuno, 20 secondi dopo mi arriva il messaggio da una notifica da Google che mi dice che hanno cambiato la password e come da procedura mi hanno estromesso anche da questo dispositivo, dall'account di Google. La cosa non tornava, ho cominciato a storgere un po' il naso e effettivamente indagando non mi faceva più accedere all'account, mi chiedeva la password, io mettevo la mia password che avevo e mi diceva che la password era stata cambiata, quindi non... ero estromesso da tutto, sono... anche sul computer, sul telefono, avevano completamente cambiato la password, quindi io ero completamente tagliato fuori dal mio account di Google, il che equivale a YouTube, Gmail, loro avevano accesso a tutto, inoltre vi dico anche, io avevo salvato tutte le password di tutti i siti da Google, tutte, tutte, quindi loro potevano avere accesso a tutte le mie password. Cosa che vi consiglio, io le ho tolte tutte, nel caso mi dovessero rientrare, incrociamo le dita, spero di no, però togliete le vostre password da Google, perché se putacaso vi dovessero entrare, ragazzi, è finita, ce l'hanno tutte. Io avevo anche password molto importanti, che potete immaginare, quindi è stato... non è stato bello, ecco, sapere che molte delle tue password importanti, molti account importanti, potevano essere in mano a malintenzionati, io ho cambiato poi password, tutto e di più. E comunque, dove ero rimasto? Ero rimasto a che mi è arrivato questo messaggio, mi avevano chiamato la password e mi hanno estromesso da tutto, sì. E allora, a questo punto io cosa ho fatto? Ho controllato nei vari forum, mi dicevano tutti di fare questo, almeno tutti, Google mi diceva di fare questo modulo, di compilare questo modulo che mi chiedeva appunto, era utile per il recupero dell'account? Niente, niente, io mettevo la mia email, mi faceva procedere, mi diceva metti l'ultima password che ricordi, io mettevo l'ultima password che ricordo e non mi faceva procedere, mi diceva impossibile continuare, insomma, praticamente non potevo più recuperare l'account. Ed ero disperato, ragazzi, ero disperato, non sapevo più che fare, ho passato due settimane incredibili, cioè non potete immaginare la condizione in cui ero. Comunque fatto sta che ho ripreso il mio account, e adesso vi dico anche come, e niente da fare, ho provato dal mio telefono, dal mio computer, dal computer di mio padre, dal computer di mia madre, da qualsiasi dispositivo, mi diceva sempre la stessa cosa, che non si poteva procedere sia da dispositivi con cui era registrato il mio account, sia da dispositivi come per esempio quello di mia madre dove il mio account non era registrato, quindi non potevo più recuperarlo, quindi questa cosa era molto strana perché comunque Google comunque te lo fa recuperare l'account, comunque fatto sta che questo procedimento inizialmente sia rivelato inutile. C'era anche da capire come mai loro avessero avuto il modo di entrarmi nel telefono, perché se questo è un codice che arriva solo a me e non arriva ad altri, e quindi se io non condivido con nessuno, non ce l'ha nessuno, e loro lo hanno visto lo stesso, sono entrati lo stesso, boh, non lo so, e comunque andiamo avanti. Io passate queste due settimane che provavo in continuazione, chiamavo Google, chiamavo Google, a Milano c'è proprio il numero tra i contatti di Google dove dice chiamateci per assistenza, no? E niente, c'è il robottino, c'è il bot che fa premi 1, 2, 3, insomma ti manda, a un certo punto quando vai nella sezione proprio dell'assistenza, ti dice resta in linea, 30 secondi, squilla, poi basta, non squilla più, io non sapevo più che fare, non mi rispondeva nessuno. L'unico consiglio che mi hanno dato, perché io guardavo nel frattempo video su YouTube, mi hanno creato l'account e l'unica cosa che mi dicevano è di insistere, di scriverli su Twitter, di contattare YouTube support, il team support di YouTube, di Google, io l'ho fatto, ho creato un account Twitter apposta per questa cosa qui, con il mio account di YouTube, cioè gli ho spiegato varie volte la situazione, vari messaggi, non mi rispondeva nessuno. E ragazzi, se non insistete, non lo recuperate, perché se non rompete i coglioni, alla gente non gliene frega niente proprio di farvelo recuperare l'account, quindi dovete insistere. Io ho scritto tanti messaggi a Twitter, su Twitter, su Facebook, su Instagram, a Google abbiamo mandato un'email dove hanno risposto ma non sono stati praticamente utili. Quindi, fatto sta che io non avevo modo di recuperare il mio account e a un certo punto come ho fatto? Passate queste due settimane che io avevo scritto tanto su Twitter, su Google, su... A un certo punto arrivado a fare lo stesso procedimento che avevo fatto, cioè ricompilare il modulo recovery, mi sembra si chiama, non lo so, comunque ve lo lascio qua sotto in descrizione, è il modulo che ho fatto io e mi chiede l'email, io inserisco l'email e mi chiede l'ultima passo, ti ricordo, io metto l'ultima passo, ti ricordo e mi fa entrare, cioè mi fa entrare, mi dice ok puoi andare avanti, abbiamo mandato un SMS al numero scelto per la verifica due fattori e questa cosa due settimane prima non me la faceva fare, mi dava errore, non mi faceva andare avanti e invece mi ha fatto andare avanti, io non lo so se mi hanno smosso qualcosa Google perché gli ho rotto i coglioni su Instagram, perché gli ho... Non lo so, non lo so, fatto sta che comunque io dopo che ho insistito tanto non mi hanno mai risposto, eh, su Twitter, su Instagram, nessuno mi ha mai risposto, però diciamo che dopo due giorni che avevo scritto il messaggio su Twitter mi ha fatto fare questa cosa, quindi non so se mi hanno smosso qualcosa loro, comunque dovete insistere anche voi ragazzi, se no non lo recuperate, comunque fatto sta che mi è arrivato questo codice sul telefono, io l'ho inserito e mi ha fatto entrare nell'account, avevo impostato tutto il russo, su YouTube oltre a me che ero il, diciamo, il proprietario principale, c'era, c'erano anche due che attraverso appunto Google si erano messi amministratori del canale YouTube, Simone Landi Reis, e avevano cambiato un po' di cose, e insomma alla fine ho buttato fuori questi due che si erano messi gestori dell'account di YouTube, ho rimesso tutto in italiano, ho cambiato tutte le password, ho cambiato la password, ho messo, adesso se devono entrare devono, mi arriva un messaggio a me, ma non basta, perché gli arriva un'email, all'email del mi babbo, e che quindi arriva un codice anche a lui, e un'email, insomma, adesso devono fare tanto per entrare, che poi sono convinto che se entrano entrano lo stesso, perché mi hanno praticamente tagliato a fette la difesa della verifica due fattori, quindi diciamo che secondo me se entrano entrano lo stesso, comunque fatto sta che la protezione va messa sempre, comunque ripeto, ragazzi, io ho fatto così, il telefono adesso in questi giorni lo devo rimpostare con le impostazioni di fabbrica, in modo che sì mi hanno messo qualcosa, perché ancora io non mi sono spiegato come ho fatto a, cioè, ancora non mi spiego come hanno fatto a vedermi il codice, nonostante io non l'abbia condiviso con nessuno, ragazzi, e quindi lo devono ancora, devo ancora mettere il telefono con le impostazioni di fabbrica, comunque lo farò, e mi sono scritto tutte le password in un foglio, che ho lì, non le ho scritte da nessun'altra parte, le ho eliminate da Google, le ho eliminate da tutte le parti, perché avevano accesso a tutto, e in queste due settimane io sono stato sempre a aggiornare la password, la pagina di YouTube, se pubblicavano qualcosa, anche su Instagram, tra l'altro seguitemi su Instagram qua sotto, link in descrizione, vi avevo detto se pubblico qualcosa non sono io, mi raccomando, l'ho recuperato, ragazzi, l'ho recuperato, sono rientrato dentro il 13, 4 giorni fa, e quindi, bene, sono contento di questa cosa, io l'unico consiglio che vi posso dare è insistere, perché se non rompete i coglioni alla gente che può farvelo recuperare, nessuno ve lo farà recuperare, quindi mi raccomando, insistete, che è questo l'importante, detto questo, ragazzi, io vi lascio, perché vi ho detto tutto quello che c'era da dire, noi ci vediamo in un prossimo video, speriamo tratti di moto e non di altro, spero vivamente, detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video, scrivetemi se avete avuto esperienze simili qua sotto nei commenti, o se vi sono stato anche d'aiuto, se avete avuto un'esperienza uguale alla mia, e se la mia soluzione è rimasta uguale a voi, io vi lascio il link del modulo che ho compilato per recuperare l'account qua sotto in descrizione, e detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi!